Sare, zona tiro, vuole dare il pallone a Linetti, in area Linetti! Il tris della Samp con Carol Linetti, 3 a 1 al 22esimo della ripresa, è cambiato tutto Marazzi! Pinta di apertura, poi prova a far tutto da solo, Murato, Iago con il sinistro e avviva il pareggio del Mono, dopo 8 minuti di assedio, Iago Falchè! Suso, se c'entra, palla sul sinistro, Suso, palla a giro, ancora una volta, è Suso! L'uomo derby per il Milan, pareggio del Milan, 1 a 1, Suso, terzo gol di Suso nel derby carriera! Si bene lo tiene in capo, all'indietro per Tarapte, Rigoni, Tarapte! Dopo l'assist per Calabino, fa 2-0 Genoa, Tarapte! Arriva Antenucci, limite dell'aria, manda a vuoto il giocatore, poi il destro di Antenucci, rete! Il gol di Antenucci! Grazie!